Si era pensato al peggio nei giorni scorsi quando in una parte dei loculi esterni del cimitero centrale di Fano si sono notati a terra numerosi pezzi di calcinacci e in tonaco. Ma ancora più preoccupante è stato sicuramente un grosso pezzo del soffitto ritrovato nel pavimento che, come ci dicono, si era staccato dalla parte alta e ha messo così in allarme chi frequenta il posto. Ma niente di tutto questo. La settimana scorsa una ditta incaricata dal comune di Fano ha effettuato delle verifiche per controllare la staticità della struttura sia nella parte delle colonne portanti dove si sono notate delle piccole crepe che dalla parte del soffitto smontando un quadro in gesso e transennando in sicurezza l'area pedonale davanti ai loculi. Questa mattina invece lavori in corso per la sistemazione delle parti pericolanti con il montaggio di un'impalcatura. I lavori avranno la durata di alcuni giorni. Nel frattempo l'amministrazione e i tecnici del comune stanno già pensando ad un intervento più complesso per il cimitero in stretta collaborazione con la soprintendenza visto che il cimitero centrale è un bene tutelato.